Inizia con una sospensione il 2017 di Orizzonti e Borgo Maniero. Infatti, al 22esimo del secondo tempo, il signor Buongiorno di Collegno, direttore di gala dell'incontro, si infortuna ed è costretto a sospendere la partita. Il primo sussulto del match al nono. Angolo di giunta per Beretta, che è ben posizionato sul primo palo, calcia a lato. Un minuto dopo ci prova Gnischi dal limite, palla sul fondo. Orizzonti vicini al vantaggio a Quartodola, scambio Gnischi in Modena al limite dell'aria. La conclusione del classe 98 costringe Zenoni al grande intervento. Alla mezz'ora, cross dalla sinistra di Scavetta, deviazione volante di Lavetto, palla alta sopra la traversa, Borgo Maniero vicinissimo all'1-0 al 35esimo. Cross ancora di Scavetta, terza di Lavetto e Cerutti in versione Superman. Dice di no, è il momento migliore degli ospiti. Infatti, un minuto dopo, Scavetta per l'Olivietto, che da ottima posizione, calcia a lato. Alla terza da ripresa, Gnischi lancia Pitito nello spazio, Viscomi è decisivo ed in scivolata salva tutti. Orizzonte in vantaggio al settimo. Angola dal sinistro di Gnischi per la girata al volo di Camilli. Zenoni respinge sui piedi di Pitito, che sigla il gol dell'1-0 per gli orizzonti. Un minuto troppo, cross di Gnischi, deviazione volante di Beretta, che costringe Zenoni alla parata a terra. Come già raccontato in avvio, al 22esimo, signor Buongiorno, direttore di Garci di Fortuna, ed è costretto a sospendere la partita. Grazie. 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 Grazie.